Dopo 11 anni di violente litigate, condite da aggressioni e botte anche nei confronti delle due figlie, adesso è stato allontanato da casa e non potrà più avvicinarsi alla moglie. In caso contrario, verrà arrestato. A finire nella rete della polizia dopo un intervento risalente allo scorso 16 aprile, è stato un 48enne di Carbonara e l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari scaturisce da numerosi episodi di violenza perpetrati dall'uomo nei confronti della moglie sin dal lontano 2009. Dopo l'intervento di aprile, infatti, i poliziotti hanno dato vita a una corposa indagine al termine della quale è stato ricostruito un quadro di violenze quotidiane consumate dall'uomo, alcolista e con una sanzione penale per guida in stato di ebrezza risalente proprio al 2009, anche alla presenza della figlia minore e dell'altra appena maggiorenne. Pure loro colpite durante i litigi quando tentavano di difendere la mamma. Tra le prove raccolte dagli agenti, vari referti medici che attestano gli esiti sul corpo della vittima delle violenze subite nel tempo.